Coniugare l'inclusione sociale con l'emergenza abitativa. Questo è lo scopo principale di unione inquilini di Messina, Asia USB e degli inquilini resistenti dell'ex scuola Foscolo che da un paio di giorni sono rientrati nell'immobile di via Palermo. Insieme ad alcuni dei nuclei familiari che avevano occupato l'ex caserma dei Carabinieri San Leone avranno adesso l'opportunità di recuperare l'edificio, trasformarlo in un luogo abitabile e metterlo a disposizione di chi non ha una casa. Questo obiettivo non si sarebbe potuto raggiungere se il collettivo Pinelli non avesse occupato la struttura circa un anno e mezzo fa e se non avesse lasciato i locali di propria iniziativa facendo spazio alle famiglie che soffrono il disagio abitativo. La sinergia tra le varie organizzazioni ha permesso la liberazione non solo della Foscolo ma anche di Casa Paradiso, l'ex scuola Pietro Donato occupata nel dicembre 2013 da sei nuclei familiari. Proprio un paio di giorni fa è stata emessa la sentenza di un luogo a procedere per tenuità nei confronti di sei imputati difesi dall'avvocato Pierluigi Venuti che due anni fa occuparono l'immobile. Risultati giudiziari ma anche politici. La non punibilità degli imputati è da un lato il riconoscimento di una piaga sociale che colpisce i cedi poveri, dall'altro il riconoscimento sociale di bisogni primari. Diritto alla casa, diritto alla città, produzione di spazi urbani, produzione di cosa pubblica e comune, contrasto ai fenomeni di espansione dei limiti della città saranno il nostro orizzonte. Così gli occupanti della ex Foscuro, determinati a non abbandonare la formula che aveva animato lo spirito iniziale dell'occupazione, ovvero coniugare attività di inclusione sociale per gli abitanti del quartiere e risposte concrete alle loro esigenze abitative.